Siamo da questo momento in diretta dalla nostra Chiesa Cristiana Evangelica Assemblea di Dio in Italia di Parma per quello che è il nostro primo culto di oggi e vogliamo insieme rivolgerci alla scrittura, alla parola di Dio e leggere dal libro di Nemia, capitolo 2, dal versetto 11. Ripeto, Nemia 2, 11. Dice così la parola del Signore. Così giunsi a Gerusalemme e trascorsi tre giorni, mi alzai di notte, presi con me pochi uomini e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura oltre a quella che usavo. Uscì di notte per la porta della valle e mi diressi verso la sorgente del dragone, la porta dell'etame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente e il serbatoio del re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura. Allora risali di notte la valle, sempre osservando le mura. Il libro di Nemia è di grande ispirazione per il credente che desidera impegnarsi nell'opera di Dio. E il passaggio che abbiamo letto ci presenta quello che fu il primo sopralluogo che Nemia fece a Gerusalemme. Arrivò a Gerusalemme in maniera miracolosa, perché aveva in cuore il bene dell'opera di Dio. Fratelli e sorelle, quando io e voi abbiamo a cuore l'opera di Dio perché amiamo il Signore e la sua opera, Dio appianerà sempre le cose perché noi possiamo contribuire per l'avanzamento del regno di Dio. Ci farà vedere cose straordinarie, miracoli gloriosi. E Nemia realizzò proprio questo nella sua vita. Il testo, dicevo che abbiamo davanti, ci presenta quello che fece Nemia. Ma in modo particolare mi colpisce il momento nel quale Nemia agì. Per tre volte, nei pochi versetti che abbiamo letto, si parla di notte. Troviamo la parola notte. La notte, soprattutto in quei tempi, ma anche oggi, è un tempo difficile. È un tempo di stanchezza. È un tempo dove le persone lo dedicano al riposo o le persone che hanno delle cattive intenzioni lo dedicano a fare del male o a lasciarsi andare nel peccato. Mentre Nemia fa qualcosa di particolare. E troviamo tre verbi che mettono in evidenza quello che Nemia fece di notte. E vorrei, con l'aiuto del Signore, considerarli insieme a voi perché costituiscono un punto di riferimento per tutti noi come agire ora che siamo nella notte spirituale per la gloria di Dio, per onorare il Signore. La prima cosa che fece Nemia, quando sopraggiunse la notte, fu quella di alzarsi. Versetto 11. Così giunsi a Gerusalemme e trascorsi tre giorni. Saranno stati certamente giorni di preghiera, di riflessione, di valutazione. Poi dice il versetto 12. Mi alzai di notte, presi con me pochi uomini e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura oltre a quella che usavo. Mi piace l'espressione mi alzai di notte. Vero è che Nemia si alzò di notte per evitare che i nemici lo stacolassero, comprendessero quello che lui aveva nel cuore di fare. Ma il fatto che Nemia si alzò di notte, io ci vedo anche qualcos'altro, che era così preso dal desiderio di vedere l'opera di Dio benedetta, le mura ricostruite, che egli non riusciva a dormire. Era ansioso, voleva onorare Dio. Si alzò di notte, dirà secoli dopo l'apostolo Paolo, quando un uomo macedone gli apparve in visione, cercammo di notte di partire verso la Macedonia, certi che Dio ci avesse chiamato là. Mi alzai di notte, scrive appunto Luca presente insieme all'apostolo Paolo in quell'occasione. Mi alzai di notte. Nemia si alza nel cuore della notte. Fratelli, sorelle, è notte. Ci sono le tenebre. Il mondo è, giace nelle tenebre, giace nel maligno. Il mondo è stanco, il mondo è spaventato, il mondo è impaurito, il mondo è preso a fare soltanto ciò che porta soddisfazione al cuore dell'uomo. E mentre è notte, alzati. Non rimanere a dormire. Non rimanere a riposare. Ci riposeremo in cielo. In questo contesto così difficile, io e tu dobbiamo alzarci. Nemia si alzò personalmente. Notate il verbo al singolare. Mi alzai. Poi dice, presi con me pochi uomini. Svegliò altri, chiamò altri, coinvolse altri. Io sono convinto che se quei pochi non fossero stati disposti ad andare con Nemia, egli sarebbe andato ugualmente. Perché aveva a cuore l'opera di Dio. Alzati nel cuore della notte e servi Dio. Onora al Signore. Sì in questo mondo di tenebre una luce di testimonianza, fratelli e sorelle. Non è il tempo per pensare a quelle che sono le nostre necessità, i nostri problemi, i nostri progetti. È il tempo più che mai di servire il Signore perché la notte è avanzata. È il giorno, il gran giorno sta per arrivare. Nemia si alzò di notte nel cuore della notte e agì, dice il testo, come Dio gli aveva messo nel cuore di fare per Gerusalemme. Nemia aveva a cuore le sorti di Gerusalemme. Ecco perché lasciò la sua posizione comoda, sicura, assusa, dove egli era coppiere del re, per raggiungere Gerusalemme, la pericolosa Gerusalemme, la desolata Gerusalemme, la distrutta Gerusalemme, che egli però aveva a cuore, perché era la città di Dio. L'opera di Dio ci sia a cuore e agiamo secondo quello che Dio ci mette nel cuore per il bene dell'opera sua. Poi dice un altro particolare che fece Nemia quella notte dopo essersi alzato. Non avevo con me altra cavalcatura oltre a quella che usavo. non aveva mezzi, non aveva risorse, ma aveva Dio dalla sua parte. Aveva il Signore che lo aveva mandato, aveva il Signore che stava disponendo ogni cosa, che stava guidando ogni cosa. Quando io e tu vogliamo fare qualcosa per l'opera di Dio, possiamo essere certi che Dio provvederà, che Dio ci userà, che Dio benedirà, perché Dio non usa la nostra vita per i mezzi e le risorse che noi disponiamo, ma per i sentimenti che noi abbiamo. Che ci sia sempre il desiderio di vedere l'opera di Dio benedetta, fratelli e sorelle. Con quei mezzi che hai, quali la preghiera, quali quei buoni sentimenti, il desiderio di vedere l'opera del Signore benedetta, quei pochi opuscoli che abbiamo, distribuiamoli ai perduti. Una parola di incoraggiamento, usiamola per coloro che sono nel bisogno. E tutto quello che Dio mette a nostra disposizione, che sia usato per la lode e la gloria del Signore, il bene e il progresso della sua opera. Non soltanto Nemia si alzò di notte, Nemia uscì di notte. Dice il versetto 13, uscì di notte per la porta della valle, mi diressi verso la sorgente del dragone e la porta dell'etame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate, come le porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente il serbatoio del re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura. Uscì di notte e appena Nemia uscì di notte notiamo che fece tre tappe o arrivò a tre punti. Prima di tutto, quando uscì di notte, passò per la porta della valle. La porta della valle ci parla della porta della prova. Quando tu hai a cuore l'opera di Dio, sappi che immediatamente, se esci di notte, se ti dai da fare, se disponi quello che possiedi per la gloria di Dio e per il bene della sua opera, immediatamente ti troverai nella prova. La quale ti vuole scoraggiare, la quale ti vuole far cambiare idea, ma se il tuo desiderio è di onorare il Signore, di ubbidire alla celeste chiamata che Dio ti ha rivolto per il bene e il progresso della sua opera, servilo, onoralo, anche se sopraggiungerà la prova, la prova della malattia, la prova della persecuzione, la prova della solitudine. Passerai per la valle della prova, per la porta della valle. Poi, dopo la prova, possiamo dire così, Nemia si trovò presso la sorgente del dragone. Che strano nome ha questa sorgente. Sappiamo molto bene chi è il dragone, non c'è bisogno che spieghiamo. È il nemico delle anime nostre. Ecco che dopo la prova dovuta forse dalla malattia, dalla solitudine, dalle difficoltà di ogni genere, il nemico stesso si schiererà davanti a te per farti desistere, per farti cambiare idea, perché il nemico fa guerra a tutti, Nemia, che vogliono agire per il bene dell'opera di Dio, per il raggiungimento dei perduti, per l'edificazione dei credenti e perché Gesù possa essere conosciuto, onorato e glorificato. La porta, la sorgente del dragone. Ma posso anche la sorgente del dragone per arrivare a un'altra porta, la porta dell'etame. Magari, chissà, la prossima serie di studi le faremo per le porte di Gerusalemme. Molto interessanti. Ogni porta ha un significato. La porta dell'etame era quella porta che accedeva a una valle dove veniva buttata tutta la spazzatura da Gerusalemme. La porta dell'etame ci parla della porta dell'umiliazione. Se tu vuoi servire Dio non ti aspettare che qualcuno ti suoni la fanfara o che qualcuno stenda dei tappeti rossi. Tu passerai per la porta dell'etame dell'umiliazione dove verrai umiliato dove verrai maltrattato dove verrai calumniato dove verrai messo da parte ma Gesù dice beati voi quando per amore mio vi faranno questo ma tu vai avanti servi Dio onore al Signore e oltrepassa la porta dell'etame. Dopo aver oltrepassato la porta della valle la sorgente del dragone la porta dell'etame ecco che Nemia fa qualcosa osservavo le mura di Gerusalemme quanto erano rovinate come le porte erano consumate dal fuoco ecco che il peso dell'opera di Dio per quello che Nemia vedeva cresceva sempre di più quel desiderio veniva alimentato sempre di più e poi passò per la porta della sorgente per la sorgente il serbatoio del re oh la porta della sorgente arriva la sorgente la porta della sorgente era dopo la porta dell'etame attraverso le umiliazioni il nemico che butta addosso il letame per rinzaccherarci poi noi passiamo per la porta della sorgente e la parola di Dio ci lava e il Signore ci lava da quelle che sono le cattiverie che gli altri possono buttarci addosso sapete fratelli e sorelle il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato ma la parola di Dio ci purifica e ci lava anche da quelle che sono le cattiverie che gli uomini ci buttano addosso se tu vuoi servire Dio ti butteranno addosso il fango ma la parola di Dio ti laverà ti laverà passa per la sorgente poi dice il serbatoio del re cos'era il serbatoio del re era una vasca una cisterna dove c'era sempre acqua che scaturiva dalla sorgente ed era sempre a disposizione del re perché il re doveva sempre avere l'acqua fratelli e sorelle il nostro re Cristo Gesù è l'acqua viva da lui non manca acqua gloria al Signore esci di notte servi Dio onora al Signore sfida il nemico le persecuzioni le cattiverie degli uomini e la mancanza di aiuto di chi magari dovrebbe e potrebbe aiutarti se qualcuno che dovrebbe aiutarti non ti aiuta fidati al Signore ti aiuterà lui e infine si alzò e risalì di notte versetto 15 allora risalì di notte la valle sempre osservando le mura poi rientrai per la porta della valle ma e me ne tornai a casa ne mia risalì di notte la valle risali la valle segui le indicazioni del Signore arriva a casa alla presenza del Signore dove potrai trovare ristoro dove potrai trovare consolazione dove potrai trovare nuove forze perché questo per ne mia era soltanto un giro di perlustrazione il vero lavoro doveva ancora arrivare le vere persecuzioni dovevano ancora arrivare le vere cattiverie dovevano ancora arrivare ma ora ne mia era forte certo perché sicuro della chiamata di Dio ad agire per il bene dell'opera del Signore ne mia aveva Dio dalla sua parte il problema non era più per lui era per Geshem per Sambalat per Tobia i quali alla fine furono umiliati sebbene provassero e provarono a ostacolare l'opera di Dio non vi riuscirono e la ricostruzione delle mura arrivò a termine in 52 giorni per l'opera potente del Signore per la fedeltà di Dio e per l'umiltà la determinazione la fede e la visione di un uomo come ne mia lo stesso Dio vuole può usare la tua vita per la sua lode gloria perché tu possa fare la sua volontà perché tu possa raggiungere i perduti perché tu possa essere di edificazione per i credenti e non dire questa mattina io non ho mezzi io non ho risorse io non ho capacità io non ho incoraggiamenti perché tu hai Dio dalla tua parte e se Dio è con te chi sarà contro di te e quest'opera avrà buona riuscita per la lode di Dio per l'avanzamento del regno di Dio e tu sarai onorato dal Signore il quale alla fine ti dirà ben fatto mio buono e fedele servitore entra nella gioia del tuo Signore alziamoci cari grazie